Fedez, il noto rapper italiano, è al centro delle preoccupazioni dei suoi fan e dei seguaci di sua moglie, Chiara Ferragni, a causa delle ultime informazioni che arrivano dal reparto di chirurgia del Fatebene Fratelli di Milano. Purtroppo la notizia non è positiva, Fedez è ancora ricoverato e ha subito un altro intervento il primo di ottobre. La domanda che molti si pongono ora è, come sta Fedez e quando verrà dimesso? Inizialmente si sperava che potesse essere rilasciato nelle prossime ore, ma le condizioni sembrano più complesse del previsto. Chiara Ferragni è al suo fianco, dimostrando il suo sostegno in questo momento difficile. Il professor Massimo Falconi, il chirurgo che aveva operato Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas, aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni la scorsa settimana. Tuttavia, sembra che ci siano stati sviluppi inaspettati. Falconi aveva spiegato che, essendo giovane e in buona salute, Fedez sarebbe stato in ospedale per alcuni giorni per garantire la stabilità dei suoi parametri vitali prima di essere dimesso. Ora sorge la domanda se ci possa essere un collegamento tra questa nuova emorragia e l'intervento delicato subito da Fedez un anno e mezzo fa. Falconi ha sottolineato che, sebbene possa esserci una certa fragilità, è raro osservare tali manifestazioni così a lunga distanza dall'intervento. L'emorragia potrebbe essere associata a una secrezione acida gastrica elevata, allo stress o all'assunzione di farmaci senza adeguata protezione gastrica. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Fedez e speriamo in una pronta guarigione. Grazie. Grazie. Grazie.